Diamo il benvenuto a Giuliano Palma. Grazie. Benvenuto. Grazie. È stata un'emozione soprattutto mi hai trascinato nel ballare durante le prove perché i tuoi pezzi sono così. Sì, sì li ho visti. Grazie. Complimenti, pezzi molto belli. Grazie, è la mia missione far ballare. Quindi se ci sono già riuscito durante le prove è un buon segno. E ti scateni anche sul palco. Sì, è il mio modo di fare la musica, di sentirla e di proporla. Io adoro ballare, in realtà mi piace ballare e poi mi piace trasmettere questa cosa. Quindi speriamo di farlo sempre. Di solito fai anche la spaccata durante le esibizioni. Ce la farai? Forse non è proprio una situazione. Vediamo se c'è il tempo di spaccare. Allora parliamo delle tue canzoni. Sì. Primo scritto anche insieme a Nina Zilli così lontani. È vero. Che parla di un amore che arriva quando ormai non ci speri più. Sì, ma che in realtà è troppo tardi. Fondamentalmente come fosse uno scherzo del destino. Un amore non sincronizzato. Ho già usato questo termine perché è una riflessione quando due persone si amano i momenti sbagliati. Cioè uno prima ama, poi dopo ama l'altro ma ormai è troppo tardi. Quindi usando il titolo di un film meraviglioso e storico pensavo fosse amore e alla fine invece era un calesse. Quindi alla fine si parla di un calesse. Però con Nina hai barcato la prima volta e messo il piedino all'Ariston. È vero. Infatti mi è anche molto servita per non morire di ansia a questo giro. Ho calcato il palco. È stata una bella esperienza da anni fa. Ho fatto l'ospito, ho duettato con Nina che in realtà siamo vecchi amici di scorribande. Abbiamo tante cose in comune. Background, passione per la musica, le stesse sfumature anni 50, 60 eccetera. E quindi a questo giro siamo qui con una canzone sua. È un grande piacere. E poi sei anche qui con un bacio crudele, un bacio che comunque così è l'annuncio di una fine di un amore. Sì, ma parli di amori tristi. Sì, perché comunque amori che finiscono e poi in realtà preludio a magari amori nuovi. Il bacio è crudele quando è un bacio con la consapevolezza che ci sta lasciando. Quindi crudeltà. Però sei qui anche per presentare il tuo nuovo album, Old Boy. Brava. Old Boy, un disco nuovo. Sono un punto di svolta della mia vita musicale. Ho abbandonato i miei compagni di viaggio, i Blue Beatters, e ho fatto un album di canzoni inedite. Che era tanto che volevo rimettermi a scrivere canzoni. Dopo la meravigliosa esperienza di elaborare i vecchi pezzi degli anni 60 in chiave sky eccetera eccetera. Però era un gioco che mi aveva anche preso la mano perché doveva essere una cosa estemporanea. Un anno, un tour, un album. Sono diventati 15 anni, 5 album, tantissimi tour. E ora invece un disco di pezzi inediti, Old Boy. Old Boy è un titolo che serve un po' a fotografare il mio momento. Non sono più giovinetto ma continuo a propormi. Ancora faccio le spaccate sul palco. Tu mi dicono quanta energia. Io continuo a fare musica così finché avrò energia e vita. Però appunto Old perché era anche il momento di fare un... tirare una riga e provare a cambiare un po' di cose. Un titolo che prende spunto da un film, un'altra mia grande passione, il cinema. Un film di un regista coreano. Non so se attaccarvi la pipa ma Park Chan-wook. Tu cinema e oriente è proprio la grande passione. Sì, mi piace tanto il cinema orientale. Dal Giappone, da Takeshi Kitano in poi, poi ho scoperto un mondo, Kim Ki-duk, altri registi, Zanke, eccetera, eccetera. E quindi quel film poi in particolare parla di un appunto di una persona che viene a sua insaputa, cioè lui non sa perché viene rinchiuso per una ventina d'anni e in un posto è un ragazzo ne esce appunto un adulto e quindi ha voglia di riscatto. Lì si parla di vendetta, io non ho vendette, però avevo voglia comunque di cambiare le cose, di uscire da una situazione che mi aveva amministratta, era diventata un pochettino stretta e quindi mi sembrava un titolo perfetto. Per quel che riguarda invece venerdì ti esibirai con una canzone di Pino Daniele. Ah, si sa? Sì, a noi risulta I say I sto a ca. I say I sto a ca. Lo dici meglio. Sì, Pino Daniele perché si celebrano venerdì cantautori italiani e io ho ascoltato tanto Pino Daniele anche perché in realtà è un buon modo per rappresentare anche le mie origini, io sono figlio di napoletani quindi mi piace la musica anche napoletana, Pino è stato la Napoli in realtà che portava il blues, il funk, la contaminazione eccetera eccetera, una canzone stupenda che mi piaceva e quindi la ripropongo in versionesca che era un po' quello che ho fatto finora, mi piaceva portarmi un po' di amici che sono i musicisti che mi hanno accompagnato quest'estate quindi come ospite avrò la mia piccola orchestra quindi i fiati, i coristi eccetera e faccio una cosa un po' ispirata agli anni 60, le band tipo i Temptation eccetera quindi vabbè vedrete perché adesso da spiegarlo è difficile le giacche non sono niente male. Quindi Giuliano dopo il festival andrà in tour, puoi dirci già qualcosa? Assolutamente sì, no non so ancora bene né quando partirò ma sono sicuro che partirò perché comunque nasco come bestia da palco e da tour e quindi ci sarà un tour che quest'estate andrò ovunque spero. A proposito dell'Ariston, così come ultima domanda, la tua più grande fobia, paura è di non ricordarti le parole. Ma si è saputo questa cosa? Ci sono i gobbi là. Ci sono un sacco di gobbi fantastici, sì perché comunque noi cantanti la paranoia ovviamente è più grande quella di avere amnesia, ho saputo che non è solo mia, parlandone con altri amici cantanti, però devo dire che i gobbi aiutano e in più ci sono anche l'orchestra che dà comunque una mano perché ti trascinano e questa è una cosa bella del festival di San Dio. Grazie mille, quindi a Giuliano Palma. Ciao! Ciao!